Un vero e proprio fenomeno si è generato già in queste ore. Siamo solo alle prime battute del progetto Sansa Borgo dell'Accoglienza in attuazione dall'intervento 2.1 Attrattività dei Borghi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR che prevede la selezione di 21 borghi a livello nazionale a rischio abbandono o abbandonati nei quali realizzare con 20 milioni di euro ciascuno per un totale di 420 milioni, progetti pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica. La regione Campania, come è noto, ha scelto il progetto candidato dal Comune di Sansa Borgo dell'Accoglienza che prevede tra le altre cose la realizzazione di un borgo albergo e residence co-working in un contesto di elevato interesse naturalistico e in posizione strategica per l'innesco di sinergie di sviluppo con importanti attrattori culturali e turistici della regione. Avviata la fase di coinvolgimento della popolazione locale e degli stakeholders che hanno presentato ben 20 manifestazioni di interesse relative alla partecipazione di partenariato per servizi connessi alla gestione del borgo turistico e ben 38 manifestazioni di interesse di proprietari di immobili nel centro storico da poter individuare quali immobili da inserire nel borgo albergo. Grande interesse per l'iniziativa è stata manifestata da università, centri di ricerca, agenzia di sviluppo turistico e a livello nazionale. Una visione strategica di sviluppo della comunità con un orizzonte molto ampio dove al centro di tutto c'è il cittadino residente e coloro che sceglieranno di tornare a vivere a Sansa. Un unico filo conduttore che attraversa le pagine della storia antica e recente del borgo passando per le tradizioni millenarie di fede e per la secolare arte contadina e della pastorizia fino ad arrivare alle straordinarie bellezze paesaggistiche ed ambientali della vetta della campania, il Monte Cervati. E' questa l'offerta qualitativa del buon vivere che Sansa propone. Ora è necessario che tutta la comunità si impegni in questa azione, ha affermato il sindaco Vittorio Esposito. Questo è un progetto ambizioso e complesso che necessita dell'impegno di tutti a partire dall'impresa locale chiamata di investire nel borgo per creare quella rete di offerta di tipo turistico ricettivo ma anche artigianale e di servizi alla persona che coloro che sceglieranno di vivere e venire a Sansa dovranno trovare. E' una grande scommessa per tutti questa, ha aggiunto il sindaco, per i giovani nel tornare, per gli adulti nel costruire quell'opportunità per i nostri figli che fino ad oggi ci era negata. E' una grande opportunità questa anche per le comunità del Ballo di Diano e del Golfo di Policastro, ha aggiunto il sindaco Esposito. Il punto fondamentale premiato dalla regione Campania in questo progetto è la rete, l'interconnessione con le aree limitrofe alla vetta più alta della Campania, il Cervati. Grazie a tutti. Grazie a tutti.